Questo video riguarda i migliori tre lettori MP3. Il vincitore della qualità è l'Emusa lettore MP3. Ogni lettore MP3 è dotato di una scheda TF di grande capacità da 64 GB, che ti permette di scaricare migliaia della tua musica preferita. E con il potente chip di decodifica audio DSP, il suono più originale è presentato a voi. Si può garantire l'alta qualità del suono Hi-Fi. L'ultima versione del Bluetooth 5.2 significa una maggiore velocità di trasmissione, distanze di connessione più lunghe e una maggiore capacità di anti-interferenza. Il lettore MP3 con altoparlante HD incorporato può riprodurre musica senza cuffie, non più doloroso indossando le cuffie. Multifunzionale in uno, lettore musicale, radio FM, registratore, e-book, sveglia. Pulsanti touch con retroilluminazione per risolvere il problema del rumore dei pulsanti. Lettore MP3 con cuffie e scheda TF64G e cavo dati di tipo C confezionato in una bella scatola. Lettore di musica per bambini. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Tavmart Lettori MP3. Concepito per alta fedeltà di riproduzione musica e utilizzo nello sport supporta formati audio WMA, MP1, MP2, MP3 e disponibile in 8 colori. La batteria ha la ricarica rapida di 30 minuti per circa 8 ore di durata. Fino a 10 ore di riproduzione audio, 8 ore di tempo per svolgere la radio FM. Perfetto di opere e di auto da interfaccia o Ricerca e salvataggio canali radio FM, eliminazione del rumore di registrazione vocale, con timer di spegnimento automatico. Fino a 3.000 canzoni capacità di memoria 16 GB, supporta fino a 64 GB micro SD carta a 4.000 canzoni. Senza ombra di dubbio, questo lettore MP4 ultra sottile entra facilmente e comodamente nel taschino della camicia o nella borsetta. Il vincitore del premio è il MyMadi lettore MP3. Basta copiare musica da smartphone o PC con la tua scheda memory card al lettore MyMadi puoi godervi la musica desiderata anche può essere utilizzata come lettore di schede. Slot per schede memory card fornito per più musica e audiolibri eccetera, supporto massimo 128 GB memory TF card. Lettore di musica, visualizzatore di foto, lettore di libri elettronici, registratore vocale, radio FM e video, sistema multilingua offrono una migliore esperienza, perfetta per uscire, viaggiare e divertimento. Può utilizzare circa 40 ore dopo completamente carica e richiede solo 3 ore di carica, facile da maneggiare e un cavo USB e auricolari imballatini. Migliore regalo per i bambini e 12 mesi di garanzia per il lettore MP3 MyMadi, siamo orgogliosi del nostro servizio clienti amichevole e rapido. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.